Aziende, comuni, persone e stili di vita ed enti del terzo settore. Suddivise in queste quattro macro-categorie, 274 esperienze di sostenibilità ambientale ed ecologia integrale sono state individuate, analizzate e mappate dal gruppo di lavoro di Next Economia in vista della settimana sociale di Taranto. Sono tutte sul sito indicatoridiecologiaintegrale.it, con l'obiettivo di far vedere che coniugare interessi economici e sostenibilità socio-ambientale è assolutamente possibile. Noi abbiamo sottolineato soprattutto come al di là di quello che si sa di più, cioè gli elementi tecnici delle buone pratiche, quindi il riciclo, la comunità energetica, quello che veramente conta è essere maestri di relazioni, il know-how, il know-how che non si insegna oggi, il saper stare in rete perché la vita è uno sport di squadra e la capacità di fare rete all'interno dell'azienda con i lavoratori, tra organizzazioni di terzo settore e la capacità di costruire legami sul territorio crediamo sia un fattore veramente centrale del successo di tutte queste storie. La capacità di costruire relazioni dunque è il primo aspetto comune alle esperienze individuate sui territori. Poi ciascuna è evidentemente declinato in maniera originale l'obiettivo di ecologia integrale che tutte perseguono, il che significa che ogni percorso è unico e non si può copiare. I territori sono tutti diversi, i contesti sono tutti diversi, quindi non si copia mai una buona pratica al 100%, però sicuramente sono sempre elemento di ispirazione perché appunto ci sono queste linee comuni che noi ne traiamo, deduciamo e che poi proviamo a riflettere su come applicarle in altri territori. Quindi farle conoscere anche tra di loro, far fare squadra, creare delle alleanze, perché sono le alleanze che poi riescono anche a fare massa critica e a cambiare la società. Il secondo tratto comune vincente è la capacità di valorizzare il territorio in cui si opera ascoltandone i bisogni, coinvolgendolo in processi partecipativi e sapendo ancora una volta fare rete con le realtà locali e questo genera un valore aggiunto. Abbiamo anche visto che dietro tutte queste singole storie, se le aggreghiamo, troviamo un impatto statistico significativo. Su tutti i dati Istat, quindi l'universo delle aziende sopra i 250 addetti è un campione enorme di quelle più piccole, abbiamo visto che avere queste qualità relazionali, in particolare assumere giovani che sono esperti in team working, capacità di lavorare in gruppo, ritenere strategico il welfare aziendale, il benessere dei lavoratori e saper coinvolgere gli stakeholder nel territorio, tutte queste cose messe assieme fanno 22.000 euro di valore aggiunto in più per addetto.